Bene, soppresso, questi sono dolori. La situazione è questa qui, romatica, che quello lì per Baiano delle Greci 42 è stato soppresso, quindi c'è una grande probabilità che questo qui per Napoli venga soppresso anch'essa. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Sì, ho fatto la punta. Sì, ho fatto un migliano, lì c'è, no, tu lì c'è, steve. Sì, ho fatto la punta. Ero a 200 metri a stasera. Eh? Mi hai chiamato la punta? Certo. E come arrivo a fare la punta? L'era via sempre a casa mia. No, io all'altra, l'abbiamo fatto il mondo. Allora, come arrivo a casa mia? 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 Allora, vorrei Schröding clava. Allora, adesso viene bella garba su l'articine all'amante. Oggi questa è la pallinaريcene. E' pronto, inizio che cosa fossi? Assichenatiosti però, non le為 cattugiati, non sono hanno una buona, Non è quello che uno scrive e un banno di impegni personali? Aspetta Quattro euro? È proprio russi Quattro euro mi sta rossinando la perota E l'ho spostata Qui si sta incarrendo Sì, sono i bambini Non mi manca Non mi manca Non mi manca Non mi manca Non mi manca